Come solo lui sa essere un'area avversaria, alla prima palla buona Mauro Icardi ha fatto centro di Uggico, il destro nell'angolino, il pareggio interista alla 52esimo con Mauro Icardi, a segnare anche il amichevole che gli chiede un po' troppo, ma deve fare questo bagaglio tecnico, Icardi poi ha la freddezza di fare la cosa giusta, ovvero di accentrarsi, trovare l'angolo giusto e sparare uno a uno Alberto Santi per la reazione del pacchino Completamente tranquillo